Pineto e Chieti non si fanno male nel match infrasettimanale della 32esima giornata, a Fabrizzi risponde Romano, un punto che fa morale e classifica. Calcio d'inizio per i padroni di casa e degli ospiti la prima occasione, Orlando ben imbeccato in croce a palla fuori di poco, dopo un'ampia fase di studio i pericoli arrivano sempre da palla inattiva, Mele e Pennella, Mercorelli smanaccia in corner, sfida scacchistica dalla parte opposta stesso copione con protagonisti Minincleri e Forti, a 5 dal termine si rompono gli equilibri, cross di Siragusa, incornata di Fabrizzi e vantaggio Teatino. Nella ripresa la Contesa corre sempre sui binari dell'equilibrio e dei calci piazzati ancora, Minincleri ancora sul fondo. Dalla parte opposta ci prova Mariani che sciupa una possibile occasione in contropiede, Mele sulla ribattuta spara sul fondo, i biancazzurri crescono e pervengono al pari, Minincleri sgusce in aria, Spina ravvisa un tocco di mano di Mele e calcio di rigore. Dal dischetto freddo Romano non sbaglia, da lì in poi non succede più nulla, Pineto e Chieti si dividono la posta in palio in un match equilibrato. Sì, adesso se serve questo punto lo vedremo più avanti. Adesso iniziamo la partita, è stata una partita difficile contro il Chieti, un'ottima squadra, gioca un buon calcio e i ritmi non erano altissimi perché è normale con il primo caldo stagionale, poi i partiti così ravvicinate. Noi facciamo un po' più fatica anche delle altre squadre perché giocando sempre con gli stessi uomini qualcuno, come ho detto in altre circostanze, non è al meglio della condizione e per noi è stato un risultato importante che dà continuità. Adesso abbiamo qualche giorno in più per riposarci e poi andremo a Torrentino a giocarci le nostre chance. Sì, come ho detto prima, un punto potrebbe essere poco o tantissimo in questa fase del campionato, la classifica è cortissima, si lotta per due obiettivi importanti, siamo tutte lì, ma ci sono ancora sei punti in palio, penso che la lotta play-off e play-out si genererà l'ultima giornata, quindi questo punto potrebbe essere niente o tantissimo. Alla fine bisogna prendere quello che arriva. È chiaro che il primo tempo abbiamo fatto molto meglio del secondo, abbiamo fatto bene i primi 10-15 minuti che abbiamo, secondo me, sprecato delle occasioni, delle situazioni che dovevamo avere una lettura diversa per poterla chiudere. Perché secondo me fino a quel momento la partita era in pieno controllo. Un episodio, perché solo un episodio ha rimesso in corso una partita, la partita e a questo punto ci prendiamo il punto e lo portiamo a casa. Non sono neanche dispiaciuto, però eravamo uno di qui con l'interno di fare questo tipo di partite, ci siamo riusciti in parte, come spesso ci accade, di avere un pochettino degli alti, poi dei bassi, un pochettino qualche situazione da rivedere, però alla fine quello che è arrivato ce lo prendiamo. Adesso pensiamo a domenica. No, non me l'aspettavo perché l'idea era di gestire un po' meglio la palla, di non aver paura di gestire il pallone perché con questi caldi in realtà devi cercare di far correre un po' di più la palla. Cioè è la palla che deve sudare, altrimenti se corri indietro, se corri con la palla al piede rischi di consumare tante energie. Diciamo che abbiamo consegnato un po' troppo la possibilità a loro di giocare con questi lanci lunghi che ci facevano abbassare, noi non avevamo la capacità di ripartire, o meglio, eravamo ripartiti nei primi 10 minuti, secondo me un paio di volte, però poi è come se aspettavamo perché vedevamo che comunque il pineto non era assolutamente pericoloso, quindi ci siamo un pochettino accontentati, secondo me abbiamo avuto un po' il braccino corto e questa cosa un po' mi dispiace.